Il Milan stenta, colpa dei singoli e dell'Inter. Parola di Massimo Allegri. Il tecnico rosso-nero parla dell'inizio stagione del suo Milan. Fino ad ora non abbiamo commesso errori tattici o di reparto, ma dei singoli. Ci vuole tempo e occorre restare sereni. Allegri è rimasto anche sorpreso dell'accesa rivalità che ha trovato fra Inter e Milan. È chiaro che quando il Milan non vince fa clamore, anche perché la rivalità con l'Inter è devastante. Per stare alla pari con gli altri bisogna vincere molto. Benvenuto a Milano. Benvenuto a Milano.